A Natale la Valerio c'è il couscous, a Natale la Valerio c'è il kebab, il Natale la Valerio, il Natale la Valerio, il Natale la Valerio non ci sa, perché a casa di Valerio c'è l'Islam, perché a casa di Valerio c'è l'Islam, il Natale la Valerio, il Natale la Valerio, il Natale la Valerio non si fa. Grazie.